Benvenuti tutti ragazzi in un altro video di Fortnite Oggi come vedete abbiamo un mida tutto dorato e volevo dedicarci un video Facendo una challenge molto particolare Semplicemente visto che abbiamo un mida dorato dobbiamo fare la solo armi Cioè no, solo tombstone di mida challenge E però ovviamente prima possiamo prendere altre armi Prima appunto di averla trovata Intanto che stima adesso sta entrando E vi ricordo di iscrivervi al canale Lasciate un bel like E iscrivervi assolutamente al canale di Pari del Zavoli E niente Fine Like e iscrizione Allora, allora abbiamo un mida Vi ricordo ragazzi che in questi giorni usciranno veramente tanti tanti video Quindi attivate la campanella delle notifiche E iscrivetevi perché così vi arrivano le notifiche dei video Se no non vi arrivano e non li vedete Quindi attivate mi raccomando la campanella delle notifiche Allora Come vedete vi rompiamo questo mida molto aggressivo Abbiamo preso quest'altro piccone ragazzi Perché mi piace troppo Cioè ci sta troppo comida In realtà no neanche Però vabbè Allora andiamo ovviamente all'agenzia Mi sembra ovvio Tra l'altro ragazzi lasciate un bel like se siete in hype per la stagione 3 Di Fortnite Io sono veramente in hype Non vedo l'ora che qualcosa accada Speriamo veri 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 soon Mi sono lasciate delle banane Ma questa Cioè Non c'entra E Quando ci sarà questo evento finale ragazzi Cioè Ma ci farà di tutto E di più E Di eventi strani Di cose strane Ma Li vedremo Soltanto Cioè Quando ci saranno Sempre se ci saranno Perché Fortnite non ci stanno segnati A parte potreste anche in giro Cose strane Allora Eh ci sta già gente Perfetto Ovviamente prima di prendere la Tommy Gun di Mida Sempre se ce la facciamo Io spero di farcela ragazzi sinceramente Non spero me la rubino Perché Posso prendere le altre armi Vi ricordo Adesso che però E mi è ricevuto da Mida Comunque Di andare diretto Scandiozzo spettro Bisogno di Di Una R Attenzione C'è stato tipo Con la Mida Lì ci sta Mida Ok 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 Lì ci sta Mida Oh Caraca Mida Curioso C'è un altro Mi eliminerà quello da dietro Perché io non ho materiali Sì Aiuto Ragazzi scappiamo Scappiamo Siamo di fuggire Siamo di fuggire Altro shieldone No Aspettate ragazzi No Mi tiro al medico E ti tiro questi Allora Altro shieldone Perfetto Andiamo Subitissimo Dove dobbiamo Andare Cioè di sopra A prendere l'arma Di Mida Allora Però dobbiamo portare Mida Oh 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 Maledetti Ragazzi Non sto a sparare ancora Veramente Non me ne frega niente Questo punto Andiamo un attimo A ritravestirci E andiamo Appunto Siamo anche in safe Ma vabbè Questo mi sembra ovvio Non me ne frega niente Se si restano Cose strane Andiamo Dove è Mida Raga Ce l'hanno rubato No Raga Non ce lo possono aver rubato No Evidentemente no Evidentemente no E c'è stancho il tifo C'è stancho il tifo Raga Sì Chi è Chi è Non mi è ragazzo Ci hanno scoperto Raga Scappa scappa Scappiamo ragazzi Che sennò qua ci laserano Ovviamente E' questo Da raga abbiamo solo la miniganna Possiamo usarsi tanto questa Porca No Da dove raga Andiamo a ritravestirci Porca raga Che ansia raga Dobbiamo buttare tutte le armi Porca miseria E' niente Dobbiamo usare solo tanto questa Raga io scapperei però Motoscapo è via Motoscapo è assolutamente Via 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 Io però vorrei trovare Un tipo Cos'altro Raga Non so voi Teniamo qua C'è uno scagnozzo Ok ok Eh ragazzi C'è qualcuno C'è qualcuno Il problema è che noi Eh però il medikit Ce lo prendiamo ragazzi Due medikit Non sono più comodo E appunto Devo trovare Oggetti Tra virgolette Altra cassa Granate Granate Che cosa mi prende La ricordo Ma raga è meglio Non interferire Sono qua Oh Fa pure un perno Raga Io non ci sto capendo nulla Ma Oh Ragazzi mi hanno là Laserato è una parola Povera Teniamoci subito Il medikit Tutte a mida Le devono fare Il re Mida dorato Proprio Ragazzi Dobbiamo scappare In qualche modo Non so come Non voglio sapere Neanche perché No ragazzi Voglio Voglio scappare via Prendiamo l'elicottero Andiamoci Please Prendiamo l'elicottero Andiamocene Per favore Non è che ci sarà dura Perché Lì ci sta ancora La guardia Che Pizzera Scappiamo Via Per favore Scappiamo via Ragazzi Abbiamo l'atomican E questo ci va bene Cosa è Cos'è quella roba Oh Ma La guerra Tanti Più 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 Altro Meglio Che teniamo in traghietta Che non possiamo Prendere Sfortunatamente Prendere Disarmiamo Gli orzacchiotti Come uno su due Boh Non sto sinceramente Capendo più nulla Sento un motoscafo No Ma perché Mi devo venire a disturbare No ragazzi Ha laserato Col vampa Raga E' andata così E' andata così E' andata così Torniamo alla lobby Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi E bella E' andata così